Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Scusa, quale cazzata hai detto che non ho sentito? Niente, stavo parlando con Riccardo Ma esattamente il tuo ruolo quale sarebbe? Come in discoteca, la figura, la figura così per attirare la gente probabilmente Qualche dodicenne con un'erezione lo otteniamo probabilmente Arrivo subito, scusate, arrivo subito Lei è quella che guida la macchina durante la fuga da una rapina, è la pilota Ma secondo me questo qua è la grandezza di questo coso E' una roba tipo del motherland, ho capito? Oh no Questa si apre forse Mi piace poter entrare città Devi potrirla Chiedo scusa a tutta la regia Chiedo scusa a tutta la regia Le minchiate sono gli altri che fanno le minchiate con me Tu non fai mai minchiate Che minchiato fatto a me? Grazie bello Lo sai che minchiate hai fatto? Vabbè ma sono cose che fanno tutti Cioè Io non le faccio No vabbè le faccio un po' Però veramente Io sono particolare Io sono normale Io non sono particolare Vabbè fai un po' Ma scusate Qual è la cosa Scusami Allora facciamo la domanda a entrambi Qual è la cosa te Amedeo che ti frena Non eri nato Non eri nato Come non eri nato? Io ho 42 anni Niente 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 Cosa stai facendo? No allora Raccontiamo Raccontiamo Esattamente Vabbè Roberta non vuole che Eh beh Allora Fate voi ragazzi Se non vuoi che io dica come sono tutte le cose Eh no Scusate ragazzi Se vomiti Senti Allora Certo Io mi studio bene la realtà La nuda e cruda verità Di questo pianeta E di questa generazione Di merda Di merda 19 anni ti sgrilletti la figa In pubblico Non hai neanche un po' di contegno Ma che razza di persona sei? Vaffanculo No no E io sto qui E mi spacco il culo Chiedo scusa Allora Allora però Ho da dire una cosa Allora Il fans non l'avevo mai visto Prima Cioè Vuol dire che ma Se possiamo Sei stata bannata per contenuti troppo espliciti? Sì Ma ecco cosa facevi? Ti dilaniavi i cazzi? Cioè No 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 Eh Non lo so sinceramente cosa Di cosa ho sbagliato Perché non lo so nemmeno io vi giuro L'unica cosa è che ho fatto un contenuto in pubblico E dopo quel contenuto mi hanno bannato Veramente No no tranquillo sia solo io Andiamo anche così in questa situazione Un momento intimo Se ne sbaglio il pazzo Il cocco Siamo sopravvissuti a questa esperienza Io e te insieme Abbiamo vissuto delle cose che non avevo mai vissuto in vita mia Maria Sofia E ha estremo bisogno di distruggerla Cioè lui vuole distruggerla totalmente Perché dice un sacco di puttanate secondo lui E mi ha implorato Di poter entrare in live solo con Maria Sofia Per distruggerla totalmente Allora io gli ho detto Ma sei sicuro? Lui mi fa Guarda fidati Da questa live qua Maria Sofia Ne esce annientata totalmente Cioè verrà completamente demolita Sarà Sarà proprio Completamente distrutta E annientata in tutte le sue circostanze Tutte le sue sfaccettature Un gratta e vinci Ok Se va bene il video è bene Comunque c'è questo video importante Che volevo farti vedere Per me è davvero Spera non è importante Non è bannabile Non è bannabile Chiaro Quindi la tua critica principale è che La mia mezz'ora di live in cui ero tiktok Ti fa cagare giusto? Sì Esatto Ok perché non ti piace guardare tiktok? Non vale una conoscente Cioè tu ti baci dei conoscenti Beh certo Beh beh per essere conoscenti Basta semplicemente avere un Cioè Sono conoscente di tantissime persone Conoscenti vuol dire che Io so chi sei Tu so chi sono Abbiamo chiacchierato qualche volta C'è un legame abbastanza Debole Che comunque non è sicuramente Un legame di amicizia Perché il legame di amicizia vero È un legame che non è che può Svanire così nel nulla C'è bisogno di un motivo Per farlo svanire Non che si dissolve Cioè Io non ho barriere Ma avete il feed? Per chiedere Cioè Cosa? Il feed Feed Siete feed? Ah Sì Dai Io sì Lei no Lei no Guardai in alto E vidi le sue spalle Vestite già Degli raggi del pianeta Che mena Dritto altrui Per le mie calle Allor fu la paura Un poco chiesa Che nel lago del corno Era durata La notte che passai Con tanta pieda E come poi Che collina affornata È uscito fuori Da quella riva Si volge l'acqua Perigliosa e guata Così l'anima mio Che ancora fuggiva Si volse retro A rimirarlo pasto Che non lasciò Già mai persona Viva E uno Anthony Grazie Anto Grazie Zio Pitagorica Grazie Chiara Grazie Vilnius Grazie Booster Twitch Grazie Batronni Veramente gentilissimi ragazzi Tutti insieme Ma la storia di Rubin è pagata Ma che cazzo Ma io non so C'è qualcuno che paga Rubin Minchia Scusate Rubin Dove cazzo è? Come si chiama? Anche Perché no? Alla fine Ci sta a provare nuove cose Wow Che bello No sono contenta No per un Cioè per un mio amico Cavolo Bene 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 Ma Cioè nel senso tu Con quanti ragazzi sei stata Per lavoro Se posso chiederti Ma in realtà Cioè non è che Troppo buio Troppo Fai a metà Eh non si può a metà Eh prova A tipo mettere la testa dentro All'interruttore Idiota Oh non l'ho fatta Ok Basta Io ancora che ci casco No 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 Cioè non lo farei mai ovviamente Ma Amedeo Dimmi caro Ti voglio picchiare Visto Fatte che il volume è altissimo Te lo basso io Ok parla Eh un po' Sono Jody ciao Il volume veramente A parte che stai usando un microfono diverso dal solito No sto usando sempre Cioè il solito Però lo tengo lontano Così non è a schermo Ah ma ti sento al tipo Puoi bastare un po' il gay Ma ci siamo Ok io mi muovo Prova prova 1 2 3 prova Perfetto perfetto Bambuleiro Bambuleiro Che belli i tuoi capelli Sembrano Sono gelati Sì Sono gelati Sì 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 sono anche freddi Quindi sono gelati Robi la baciata Tutto a posto Shadion Hai qualche problema tecnico? No sto Stai capendo cosa fare da tua vita? No sto rispondendo un attimo a un messaggio Perché sto Sto un attimo rincoglionendo Ah tu che rispondi con quelle unghie mi fai colare Così Mi scrive Posso bere Dalla mia irap Allora intanto facciamo il reddit Ci guardiamo un attimo al volo i miami del reddit Vediamo un po' che cosa ci raccontano Però io posso dire che Non so se siete d'accordo Però io Le mie live spesso le anche le guardo come spettatore Perché anche oggi tipo non è che Il mio contributo fosse particolarmente importante Però secondo me è stata una live diversa dal solito Cioè è stata molto particolare Ehi Vuoi avere un fisico migliore? Bene Sei di Sarzana in provincia Vieni alla palestra level Così almeno Ma dove cazzo siamo? Ma siamo su Italia 7 gold Ma vedo cosa è sta conto Ovviamente la sponsor è fatta No in realtà io ci tengo Che un po' le persone inizien a fare attività fisica Perché a me ha aiutato molto Specialmente Colpa tua Non è colpa tua Grimbaud Tu sei una tua amica Una calabrese tua amica? Comunque dicevo Veramente? La chiamo? Mi manca giocare Ah gioca a calcio? Però Ormai basta Cioè quello è poco ma sicuro È stato già in live da me Per una partitella No madame Perché dovete scrivere questa roba irrispettosa ragazzi? Abbiate rispetto del prossimo Abbiate sempre rispetto E ino Head Grazie.